Dai Albi che siamo in ritardo Si parte finalmente Oh il primo volo che prendiamo da Dalla Svezia Malino Che non mai pensa oggi partiamo per un viaggio Per la prima volta della nostra vita ragazzi andiamo al Sud Italia Veramente io non sono mai stato più sotto di Roma Oh che è? Attenzione colpo di scena Dove stai andando stai? Stai in Francia a fare un giretino Un giretino per lavoro Mettigli un po' di invidia La prima cosa che faremo sarà mangiare un arancino Un arancino per te Ivos Sfigato Leggi il labiale Ma tu sei il famoso polloretto? Ragazzi link in descrizione come al solito Codice faraone Per extra 10% di sconto Dovete sapere ragazzi Che il labiale è proprio un pollo Un pollissimo Perché? Perché ne abbiamo organizzato tutto da settimane E lui non sai niente Un pollo reto Sei un pollo reto Allora Mi legge intanto dove è il mio game Oh Oh Catania Sicilia No Vi è anche te Ivo No Ma sai perché? Oh Oh Musica Bici montate ragazzi Siamo nella sede di ASD Donkey Rider Dove ci troviamo di preciso? In questo momento siamo a bel passo Siamo venuti in Sicilia ragazzi Perché dobbiamo filmare appunto il video di Red Bull Il primo episodio della serie dei bike park italiani di quest'anno In questo momento l'episodio di Red Bull è già uscito Quindi mi raccomando trovate il link in descrizione Andate a vederlo perché abbiamo fatto una recensione completa Di tutti i trail che hanno qui E di tutti i servizi che offre ASD Donkey Rider Abbiamo dietro di noi il rampeggi italiano catanese Questo tipo di montagna si chiama Calanco Ed è veramente lo stesso tipo di formazione rocciosa che c'è anche al rampage Albi lo sai che adesso però dovrai portartela su tutta mano Si inizia a spigne Guarda quant'è alta E c'è già il fiatone esatto Abbiamo iniziato la salita ragazzi Pendenza Tanta Facci vedere come si mette in squadra la bici Quei cazzo si piglia in mano Ah ragazzi per favore insultate al boreto grazie Guarda il signor Ivo Guarda come va su Uno stambecco Ok ragazzi qua l'unico modo per salire è questo Track e vai su Track e vai su L'abbiamo fatta Vado Ciao mamma Sono rampeggi Adesso abbiamo fatto la linea più easy perché volevamo sentire come grippava il terreno Adesso ne facciamo una decisamente più incazzata Con tre ride Vediamo Via Vai Vai Ci stiamo cacando sotto Ce la farà il nostro arboreto? Siamo fottuti ragazzi No Eccoci Ok E niente anche in Sicilia L'abbiamo fatta Cazzo ma poi ero arrivato Sei un pollo Alboretto ha colpito anche in Sicilia Ma anche questa esperienza sicula L'abbiamo inaugurata Mamma mia che bello Uuuuh Ah Compagno Applausino per alboretto Ah sta ancora a registro Vai Alve Ci siamo improvvisamente trasferiti dalla pianura della montagna ragazzi Toto Mi dica Ma questa pece è quella lì che mi si deve fatta costruire alla gente? Sì Questa qua è proprio quella che ho fatto costruire alla gente L'hai visto quel video lì? Sì Quando ci vede messo? Tipo otto ore a montarla Mizzica Mizzica Partiamo con pietrazza ha detto Sono le pietrazze qua Oh salto Un bel salto Oh 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 C'è il cane proprio al centro di Rod Solo un botto di cani erano qui sotto Proviamo a rifare questo pezzettino di salti Vediamo se incontriamo ancora i cani Un po' corto Un po' corto Oh una pietra gigante Vai C'abbiamo i cani ovunque qua Ostia non si vede un cavolo Alboreto l'ha mangiato i cani? Ragazzi Adesso rifaremo questo bellissimo tre con i saltini Perché Alboreto deve farci almeno i primi tre doppietti Fino al road gap Oh Tranquillo Alboreto ti tiro io Lo vogliamo o non lo vogliamo ingaporeto? Non lo vogliamo Oggi abbiamo già fatto la strisciata Segui lì di velocità Tu non far troppo forte le curve Albi sorriso in faccia quando giri Porca puttana Sorrido Sorrido sempre ciao Vai che va bene va bene va bene Seguilo Ok Bravo che stai tenendo la velocità Va benissimo così Albi Vai che va bene Vai 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 Va benissimo vai Molla Vai che va bene Vai 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 Perfetto Boom Buona occhio Albi Bravo grazie Oh che male Dove recuperare Ivo Mamma mia Madonna che Che buon talco ragazzi Dagliene Ivo Madonna Madonna Non si vede C'è un salto qui Spedale la tappa Adesso facciamo sto trick qua Vittore si chiama Vai spediamo due minuti Vai Oh eccoci qua Oh mio dio No aspetta 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 L'abbiamo perso il ragazzo Ma che cazzo dici Vai 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 Vado 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 Oh my god Oh my god Dagliene dagliene Canone Staccato Madonna Madonna Lungo lì eh Allora ragazzi Siamo appena tornati in camera Abbiamo fatto la doccia Dopo una giornata di riding Facci vedere le ferite di guerra di oggi Allora abbiamo questa E questa qua Io ho portato un regalino per l'alboretto Per queste evenienze Eccolo qui Sapete che cos'è questo ragazzi È il dolore spray Alza quella ascella di merda Non voglio Alzala Fa male Fa male No vabbè Vabbè No Vabbè No vabbè Ma quanto cazzo brucia Ma ragazzi ma che cazzo Ho inventato un cerotto spray Ma sei scemi Intanto che l'alboretto sta soffrendo Per gli ultimi secondi Domani probabilmente forse Proviamo ad andare a fare I super friradoni sull'Etna Speriamo Perché la funivia è chiusa Dobbiamo trovare un modo per salire Ci chiediamo mani raga Allora l'unico modo che abbiamo Per fare i sabbioni È salire con i bike Perché la funivia è ancora chiusa Ragazzi qui Siamo a altezza neve C'è la neve coperta dalla cenere Quanto ha meccato con la situazione qua Lunare Quante cadute fai oggi? Cos'è che fai? Uno Due Tre E quattro Prendere in corsa Madonna C'è lunare Lunare Ragazzi è giunto il momento di tornare a casa e purtroppo abbiamo ancora con noi l'alboretto Io pensavo di perderti Anch'io pensavo di perdermi È stato un piacere avervi qui A breve veniamo a trovare noi Sì però il problema è che noi non abbiamo tutte quelle cose di buone da farvi mangiare Abbiamo tante cose buone a mangiare Le porzioni però non sono così abbondanti E ce ne prendiamo tre a testa Niente ragazzi grazie di aver visto il video Ricordate di andare a vedere anche il video di Red Bull in descrizione che c'è il link Abbiamo fatto proprio la recensione completa Tutti i trail che si possono fare sull'Etna E noi ci vediamo al prossimo video Bella